Oggi parliamo di Hertz, la compagnia di noleggio che vende una marea di auto Tesla. Poi cambiano i prezzi in Cina e un misterioso chassis, una forma di un telaio, avvistata in Texas. A tra poco! Ben tornati a Lampi di Tesla, gira da qualche giorno una notizia riportata in questo modo. Hertz ci ripensa, lascia l'elettrico per tornare al termico. Abbiamo già parlato molte volte nei Lampi del fatto che Hertz abbia siglato inizialmente con Tesla dei contratti per l'acquisto di molte auto elettriche per il noleggio. Parliamo di auto dal 2021 in poi e non solo Tesla, comunque Hertz ha comprato anche Polestar ed altri marchi. e proprio qualche mese fa è uscita la notizia che Hertz ha deciso, ma questo in maniera assolutamente trasparente, di limitare la flotta elettrica perché ovviamente le auto hanno avuto un depreciamento maggiore di quello che si aspettavano, anche perché sono state acquistate nel 2022 quando i prezzi erano alle stelle e complice anche i tagli di prezzo soprattutto di Tesla, e anche perché comunque i costi di riparazione sono ancora un po' più alti rispetto alla media. Questo l'ha dichiarato chiaramente il CEO di Hertz, non ci sono segreti. La notizia invece che ha avuto risalto qualche giorno fa è stata quella che Hertz sta vendendo praticamente tutte le Tesla che ha acquistato in favore di auto termiche. Beh, anche questo non è proprio esatto però. Allora intanto vediamo un po' le macchine che sono presenti sul sito Hertz, basta andare sul sito americano e vedere le auto in vendita. Facciamo qualche esempio, ci sono delle Model 3 standard range del 2021 intorno ai 20.000 dollari, ci sono anche alcune a 16.000 dollari, che effettivamente è un ottimo prezzo di acquisto, ma sono macchine che si aggirano intorno ai 90-100.000 miglia, quindi 140-150-160.000 chilometri. Questo, macchine del 2021, quindi vuol dire che effettivamente sono macchine che sono state noleggiate, non sono macchine che sono state ferme, quindi Hertz ci ha fatto quello che doveva fare con queste macchine. Ma poi andiamo effettivamente a vedere i numeri, perché Hertz ha attualmente in vendita come ricambio parcoveicoli 27.700 veicoli, di cui 661 sono Tesla, quindi su 27.600 sono Tesla. Le altre sono distribuite, Chevrolet, Ford, Nissan, Toyota e tutte le altre marche. Quindi è vero che da un lato Hertz sta riducendo la flotta elettrica, per i motivi che abbiamo visto prima, ma è anche vero che comunque le auto le ha usate e le ha noleggiate. Ecco, questa è la realtà dietro la notizia. Parliamo ora di prezzi, perché due giorni fa Tesla ha limato leggermente al ribasso i prezzi in Cina. E guardando il grafico dell'ottimo Roland su X, sono calate sia Model 3 che Model Y, diciamo tra i 1000 e i 2000 dollari, più o meno. Non sono i valori più bassi che abbiamo visto. Infatti, come si vede dal grafico, ci sono stati dei valori più bassi per poi rialzarsi. Insomma, i prezzi rimangono sempre abbastanza altalenanti. Perché? Perché sappiamo che Tesla, vendendo direttamente, ha perfettamente in mano il pugno della situazione di domanda e offerta e in base a questo, in base alle inventory, a quello che ha da vendere, riesce ad adattare il prezzo e quindi riuscire a gestire quello che riesce a produrre e quello che vuole vendere. Cambierà qualcosa anche in Europa? Beh, questo discorso lo abbiamo già fatto molte volte. Stesso discorso della Cina. Sicuramente ci saranno sempre variazioni di prezzo. potrebbero alzarsi, potrebbero abbassarsi. Sicuramente nel lungo periodo, quindi attenzione, non nel breve, nel lungo periodo, la tendenza sarà quella al ribasso. Perché questo è l'obiettivo di Tesla. Cioè rendere l'auto elettrica sempre più accessibile. Tra l'altro, parlando di prezzi, negli Stati Uniti, quindi Tesla adesso può effettivamente vendere con i 7.500 dollari di incentivo federale direttamente alla vendita. Quindi non più come recupero, diciamo, l'anno dopo sulle tasse, ma proprio come sconto all'acquisto. Quindi si può acquistare una Model Y Performance a circa 45.000 dollari più tasse. Insomma, mi sembra un bel prendere. Rimaniamo negli Stati Uniti perché un paio di giorni fa è stato avvistato un camion che trasportava dei telai, degli chassis coperti. Si è speculato sulla Model Q, Model 2, Model piccola. Effettivamente a me sembra tanto una Model Y senza portellone e senza, diciamo, il cofano anteriore. Quindi potrebbe essere, diciamo, un'evoluzione della Model Y che adesso non è più in produzione, cioè quella con megacasting anteriore e posteriore e pacco strutturale. Non mi sembra che differisca molto, effettivamente, dalla Model Y che vediamo dietro. E quindi stiamo calmi e tranquilli. Non mi sembra che sia un qualcosa di nuovo. Proprio ieri abbiamo detto che sono tornati in referral anche su Model 3 e oggi mi è arrivata una mail di Marco che ha ordinato la sua Model 3 Island utilizzando il mio referral. Bene, grazie mille Marco. Avrai tre mesi di autopilot avanzato gratuito così potrai provarlo e mi raccomando, mandami la foto della consegna. E poi ci tengo a salutare Alessandro che mi ha mandato qualche foto creata con l'intelligenza artificiale dove lui ha chiesto di creare, appunto, un'immagine basata su lampi di Tesla. Me ne ha mandate un po', davvero molto belle. Ve ne faccio vedere una, quella che mi è piaciuto di più e devo dire che rispetto a quelle che mi aveva già mandato l'anno scorso effettivamente i dettagli sono migliorati tantissimo. Grazie mille Ale, sono davvero belle le foto che mi hai mandato. Questo è tutto per oggi, io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao!